32. Biotecnologia È eticamente accettabile modificare il patrimonio genetico degli animali e dunque creare in laboratorio nuove specie? E queste poi possono essere brevettate come una macchina creata dall'uomo? Commento Sì, perché l'etica si adatta ai vari passaggi dell'equazione evolutiva dell'umanità e come tale deve essere accettata in tutte le sue modificazioni. Se non noi, i nostri figli e i nostri nipoti reagiranno geneticamente, ad esempio, al cibo tecnologizzato, perché anche loro appartengono all'equazione evolutiva che non può essere arrestata. Grazie a tutti i nostri figli e i nostri figli e i nostri figli. Grazie a tutti i nostri figli e i nostri figli.